Una voghera ambientalista a misura d'uomo più vivibile. Sono questi gli obiettivi del progetto Metro Minuto, presentato questa mattina presso la sede dell'associazione preponente, ovvero Voghera E. Trattasi di un progetto di mobilità sostenibile che ha come obiettivo la salute dei cittadini, attraverso l'incremento della pedonabilità urbana, con la realizzazione della mappa del Metro Minuto, che fornisce indicazioni dei luoghi di maggiore interesse civile, culturale, storico e naturalistico della città. Lo schema si basa sulla rappresentazione della città in termini di distanze reciproche tra i luoghi di interesse e i tempi di percorrenza medi per gli spostamenti pedonali, individuando con diverse colorazioni i percorsi di maggior fruibilità. Il progetto nasce da una chiacchierata con i medici di Noictus e Ranford Parkinson, ha spiegato il vicepresidente di Voghereppi e Rezio Ghezzi, ed è stato realizzato per la prima volta nel 2008 in Spagna, vincendo un premio internazionale dalla Comunità Europea. Sul suolo italiano è stato realizzato a Cagliari, Ferrara, Firenze e Modena. Si tratta di limitare l'uso di autovetture in città e promuovere la cultura del camminamento pedestre. Attraverso una mappatura precisa e una serie di pannelli installati nei punti strategici della città sarà possibile sapere quanto tempo ci vuole da un luogo ad un altro, quanti passi ci vogliono e quante calorie si bruceranno. Un progetto sottolinea Ghezzi che ridurrebbe l'utilizzo delle auto. Oggi, secondo dati dell'Unione Europea, l'80% dei cittadini le predilige anche per spostamenti al di sotto dei 3 km, con conseguente diminuzione degli incidenti stradali. Per questi motivi, grazie anche all'interesse della Facoltà di Medicina dello Sport e dell'Università di Pavia, Voghera è, con un documento firmato dalla Presidente Patrizia Longo, ha presentato all'Ufficio Protocollo del Comune di Voghera la richiesta affinché il progetto venga attuato. Qualche migliaio di euro e costi per la realizzazione, con la speranza che vengano coperti dagli sponsor, per Ghezzi è un investimento modesto per i risultati che potrà dare. Si sta già pensando alla realizzazione di un'applicazione per smartphone dedicata. Un progetto innovativo è il commento di Chiara De Paoli di Lega Ambiente, che ha sottolineato di come metro minuto si inserisca in una serie di passi importanti che la città dovrà compiere per debellare la piaga dello smog.